E' domenica 22 dicembre, un grande appuntamento come abbiamo detto, lo abbiamo fatto, siamo a San Cipriano d'Aversa in provincia di Gazerta, una grande domenica, un grande pomeriggio, targato Made in Sud, chi ci sarà? Ma come chi? E' vero Titi, saluta Titi e da San Cipriano partiamo Videologa Television con Mino Abba Cuccio. Grazie a tutti. 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 Salute a tutti. Grazie 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 a tutti. dodici negozi con un supermercato per rispondere ad ogni esigenza? Sì, ci sono negozi di tutte le fasce di prezzo. Partiamo dai negozi che vendono articoli di 5-6 euro a salire, articoli di marca. Il supermercato è Eurospin fornitissimo, molto grande, quindi sta andando bene, non possiamo lamentarci. Un calendario evento studiato in pochi giorni ma che ha dato frutti grandissimi come per esempio il 24 nella vigilia ci sarà? Ci sarà mister Shagabu, Mago che farà uno spettacolo, poi proseguirà comunque sabato e domenica successivi fino al 31 con diversi ospiti e diversi eventi divertenti sia per i grandi che per i piccini. Riepilogando martedì 24 mister Shagabu sabato 28 arriveranno i pazzi trampolieri, si balla sui trampoli domenica 29, che ve lo deve fare? L'amica dei bambini, Peppa Pig e poi il 31 martedì e l'altro, si brinda tutti insieme solo di mattina? Sì, faremo un bel brindisi al prossimo anno, sperando che sia migliore di questo e buttando fuori tutte le cose brutte augurandoci un futuro migliore per tutti Uno stappo per la speranza? Esatto Centro Commerciale Borgo Antico si trova? San Cipriano D'Aversa, Corso Umberto I Vi aspettiamo, venite tanti Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!